Eravamo dopo lì, giugno e luglio saremmo stati, siamo partiti, eravamo una decina, luglio 1944, siamo partiti, eravamo una decina, quasi tutti di qua, venivamo quasi tutti a casa, cambiarsi, trovare i parenti, e avevamo passato la strada dove abitava mia moglie, e abbiamo fatto il giro e siamo venuti a finire, sapete dove c'è lì, dove appena passata la stazione sulla sinistra, c'è una mezza betolina dove danno da mangiare, e c'è una stradina che scende giù a sinistra. Allora io ero il primo con un brain in mano, e questi ragazzi tutti dietro, con le armi in mano così, come arrivo? Per arrivare sulla strada, davanti lì a 30 metri, 40, c'è un carro di quei carri trainato da quei cavalloni tedeschi, con sopra otto tedeschi. Allora, prima di sparare ho pensato, ho detto ragazzi, non spariamo perché se li ammazziamo bruciano cengio. Ragazzi, cengio è il nostro, eh, non dobbiamo bruciarli. E di lì, con quei mitrali in mano così, facevo raus, raus. Erano quei tedeschi che venivano qui per andare a Saliceto, alla mina. Non so se ve ne hanno già parlato. Giù in fondo alla discesa, quasi in fondo, ci avevano messo una mina tedesca e avevano fatto una baracca sulla parte opposta sotto il monte, dove loro vivevano, lì tedesca. E ogni pochi giorni davano il cambio. E quelli lì andavano a dare il cambio ai tedeschi. Se noi li ammazzavamo, cosa succedeva cengio? Bruciavano tutto. E poi abbiamo pensato bene di non ammazzarli. E anche lì con Gildo, lì davanti al Bar Roma. Lì, 4-5, lì seduti fuori a un tavolino, con lo stand tutti qui, no, vestiti da tenda. Avevamo fatto delle divise, divise, dei vestiti con telo da tenda. Chi è l'americana, che eravamo vestiti un po'. Ti arriva una macchina coloniale. Non so se avete l'idea, forse no. Era come fosse oggigiorno. Una macchina abbastanza lunga, diciamo, no? Erano le coloniali che avevano in Africa. Sopra c'erano quattro tedeschi. Uno tira giù il finestrino e fa «Partigian! Dove sono i partigian?». Nel mentre che dice quello, dove di dietro alzano lo stand, il backing pistol, Gildo fa «Il momento! Pensate un po' voi tutti i nostri a sparare su quella macchina». Lì è andata bene, hanno bruciato solo il bar.